L'occasione per riaprire la partita diplomatica siriana, Sergei Lavrov la guanta al volo sull'onda della mossa a sorpresa americana. A metà mattinata da Londra il segretario di Stato John Kerry aveva annunciato che Damasco, consegnando entro la settimana prossima il suo arsenale chimico alla comunità internazionale, potrebbe evitare l'attacco statunitense. Sono bastate meno di sei ore al ministro degli esteri russo per comparire a Mosca accanto al collega siriano Walid Mualem, proporre al regime di Bashar al-Assad di aderire all'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche con la messa in sicurezza dei siti di stoccaggio dei gas letali e incassare il sì del ministro di Damasco. Dichiaro che la Repubblica Araba siriana accoglie con favore l'iniziativa russa. Siamo preoccupati per la sicurezza del paese e la vita della nostra popolazione, annuncia Mualem. Manca adesso solo il sì ufficiale di Bashar al-Assad. Quasi immediata la precisazione del Dipartimento di Stato americano, quella di John Kerry, era una semplice argomentazione retorica, chiarisce nel pomeriggio una nota del suo portavoce. Di Assad in realtà non ci si può affidare, è un brutale dittatore. Ormai però la strada verso l'ennesimo tentativo per una soluzione diplomatica della crisi è aperta. A New York il segretario generale dell'ONU convoca la stampa e accoglie con un bene l'iniziativa di Lavrov, il rapporto degli ispettori. Sull'uso dei gas non è pronto ma il Consiglio di Sicurezza deve sbloccare la sua imbarazzante paralisi, dice Ban Ki-moon. Lo solleciterò ad occuparsi direttamente del controllo delle armi chimiche siriane. Meglio una rimozione controllata dell'arsenale chimico alla guerra, commenta una fonte ufficiale da Tel Aviv, anche per Israele insomma sarebbe la soluzione migliore. La svolta per uno spiraglio diplomatico arriva a poche ore dal blitz mediatico di Barack Obama che in prima serata, da noi sarà nottefonda, ripeterà intervistato dalle principali tv nazionali i motivi del suo piano d'attacco. Non agire contro Assad significherebbe che chiunque in futuro potrebbe comportarsi allo stesso modo. Domani si rivolgerà invece agli americani con un discorso alla nazione. Ma un sondaggio commissionato da USA Today dà il 63% dell'opinione pubblica contrario all'intervento armato. Al Congresso aumentano gli indecisi nel prossimo voto sulla risoluzione di intervento. Obama da comandante in capo può comunque agire da solo. Eppure poco fa il vice consigliere per la sicurezza nazionale Rhodes ha dichiarato che la proposta russa verrà approfondita. Ma stasera la tv pubblica nazionale americana trasmetterà l'intervista esclusiva del giornalista Charlie Rhodes proprio a Bashar al-Assad. Non ho mai usato i gas contro la mia gente, si è difeso dopo più di due anni di attacchi terroristici. Siamo pronti al peggio ma in caso di un intervento americano avverte tutto potrà succedere. La risposta potrà arrivare non solo da noi. Dall'Iran o Hezbollah gli chiedono? Tutto è possibile, risponde.